60 seconds, praticamente afono, di questo venerdì sera, infatti ieri non ce l'ho fatta registrare, proprio non usciva nulla, non usciva, non ricevo l'articolare. E dedico questi pochi secondi, anche perché l'autonomia è veramente scarsa, ad Ericsson, giocatore ormai ex dell'Inter, ricorderete tutti quello che accade negli scorsi europei, la vita letteralmente ripresa per i capelli in quel terreno di gioco, incredibile. Oggi i giocatori e l'Inter hanno rescisso con parole di profondo rispetto reciproco al contratto, perché ricordiamo in Italia con il grave problema cardiaco emerso poi al giocatore danese, non è possibile, proprio dal regolamento, non è possibile giocare e svolgere alcune attività professionistiche. In altri paesi, vado a memoria, l'Olanda ad esempio, è possibile procedere dopo gli interventi e via dicendo, da noi no, devo dire francamente, mi sento molto più tranquillo davanti all'estrema severità, da questo punto, delle norme italiane. Ma quello che è bello è innanzitutto ricordare questa vita salvata, ricordare quell'ondata emotiva in occasione degli europei, poi così fortunati per i colori azzurri, e anche la capacità dell'Inter, del giocatore, di mantenere una grande, fatemelo dire, dolcezza, anche nel momento del saluto, perché stiamo parlando comunque di professionisti, stiamo parlando anche di contratti in cui ballano dei bei quatrini, però sapere accompagnare tutto questo con le parole giuste, con i toni corretti, devo dire, un po' riconcilia con un mondo che troppe volte, insomma, sembra ridurre tutto proprio esclusivamente al denaro, anche da un punto senza neanche porsi il problema di salvare la forma. Ecco, qui invece c'è sostanza tanta in questo ragazzo, e non solo, tutti coloro che sono a lui vicino, e anche nell'Inter. Quindi complimenti a tutti, e vai Erics, qualsiasi cosa tu decida di fare.